Di nuovo ben ritrovati a tutti voi ragazzi, di nuovo insieme, io sono Manuel, come ti consueto questo è il Bar del Calcio, benvenuti a tutti voi, partiamo con la nostra intro! Cara community del Bar del Calcio, ben trovata, ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per Rinascere, trovate anche gli altri due libri, Una Storia Vera e La Stella Verde, tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito, ve lo dico qui punto com, all'interno del quale come potete vedere una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Benvenuti ragazzi, benvenuti, ancora una chiacchierata insieme, vi ricordo come ti consueto che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti il Bar del Calcio, fa caldo, sto affannato. Allora, andiamo a chiudere un attimino questi video inerenti appunto l'amichevole che la Lazio ha giocato nella giornata di ieri contro il Southampton, ci può stare, vederla in un modo e vederla in un'altra, è una cosa che chiaramente rientra nella natura delle cose, però mi piace, mi piace l'idea e soprattutto il contesto e soprattutto il contenuto delle immediate dichiarazioni post partita di Baroni nel corso della giornata di ieri. Chiaramente il giornalista porta all'attenzione del tecnico la bellezza balistica del gran gol segnato da Casteccianos, che vi ricordo è servito a pareggiare una partita contro una squadra che quest'anno dovrà fare i salti mortali per salvarsi in Premier, ok, contestualizziamo la cosa, ma il mister Baroni mi è piaciuto tantissimo perché invece ha replicato alla domanda di questo giornalista dicendo che invece di pensare, ve la dico proprio alla romana detta proprio a parole mie, invece di pensare Gocca Fatto e il Tati magari sarebbe stato bello che il Tati stesso avesse buttato giù la porta, eh, avesse buttato giù la porta nelle altre due occasioni che gli sono capitate, invece di tirare con leggerezza e prendere la traversa oppure fare un paio di colpi di d'acqua tu per tu davanti la porta. Ecco, cattiveria, l'appello che io raccolgo dalle parole del tecnico Baroni è proprio questo, eh, cattiveria, cattiveria. Ci sono delle parole che stiamo imparando a conoscere meglio il tecnico, no? Ci sono dei termini con i quali lui ci bombarda in ogni parola diventa, proprio con il rischio di diventare monotone e ripetitivo, mobilità. Spesso quando adesso si va a citare sta parola, c'è pure in qualcuno scatta un sorriso perché sembra essere il marchio di fabbrica di Baroni, mobilità che vuol dire? Che praticamente ci si va a scambiare di ruoli in continuazione, non ci sono ruoli ben definiti in questa Lazio, proprio questo è il motivo principale per il quale Lazio cerca giocatori poliedrici, giocatori che possano adattarsi in ogni zona del campo, soprattutto in quella offensiva, eh? E quindi chiaramente questo termine va un po' a sposarsi con quanto dice Baroni. E ci sta. Ma vuole pure la cattiveria sotto porta, ci serve la cattiveria sotto porta. Io non posso vedere Lazzari che mi arriva davanti la porta e invece di buttare giù la porta, rischiando anche di mandare la palla in tribuna, fa l'ultimo passaggio per Castellanos. Tu, Lazzari, devi tirare in porta, devi buttare giù la porta. Come si usa dire in gergo, tutta di Castellanos. Quando ti arriva una palla, devi buttare giù la porta. Questa è una squadra che manca di cattiveria, perché le occasioni in realtà le crea pure. C'è un aspetto positivo in tutte queste amichevoli che per quanto mi riguarda sono state, hanno dato più sprazzi negativi che positivi. Il fatto che comunque questa squadra, volente o non volente, davanti alla porta ci arriva. Questa è una squadra che davanti alla porta ci arriva, ragazzi. Ecco, allora, più cattiveria, perché ieri col Southampton tre, anche quattro gol li potevi fare. Li potevi fare, assolutamente. Quindi l'appello che raccolgo dalle ultime parole rilasciate dal tecnico Baroni è proprio questo. Serve più cattiveria. Mi è piaciuto il fatto che Baroni, anziché raccogliere la sponda offerta dal giornalista riguardo a Castellanos, ha detto sì, bel gol, quello che vi pare, però ho detto proprio breve, ha detto se ci sono pure l'articolo che si è mangiato per troppa leggerezza. Ed ha ragione, perché non tutti ti concederanno quattro, cinque, sei occasioni da gol a partita. Perché dobbiamo tenere conto, amici miei, in particolare che tu fino a oggi hai giocato con squadre tendenzialmente a te inferiori. Sto precampionato è all'insegna di match contro squadre a te inferiori, che quindi tu per superiorità comunque hai portato per natura, per svolgimento naturale degli incontri, a creare occasioni, a crearle. E tu una partita come ieri dovevi fare quattro gol, non basta non aver perso, perché alla fine hai fatto 1-1, hai pareggiato, hai limitato la partita, non hai perso. È vero che Isaac se nel gol era entrato, va bene, sono d'accordo su tutto. Cioè ci saranno partite, ahimè, dove ci concederanno, se c'è due o tre occasioni, se ci capita nel grasso che cola. E tu da quelle due o tre occasioni che ti capitano devi assolutamente tirare fuori il tutto, il massimo che puoi, tradotto in Alazio, troppo sprecone. Tradotto in Alazio, sottoporta, a differenza di quello che si vede in campo, che è una squadra tignosa, una rissa a partita, e a me sta cosa sta a buttarlo in cacciara, ripeto, le colpe dell'avversario perché è chiaro, però mi piace fino a un certo punto, diciamolo subito. Però detto ciò, magari trasportiamo sta cattiveria anche in porta, scarichiamola anche in porta. Cioè qua ci vuole la cattiveria, la tigna, sottoporta quando tiri. Tu, se il portiere prende un tiro che fai, se devi fratturare una mano per la cattiveria che ci metti nel corso della partita, nel corso dello sviluppo dell'azione, la cattiveria che scarichi nel tiro in porta. Il tiro in porta è l'atto conclusivo di uno sforzo, di una produzione di gioco che ha fatto la squadra dall'inizio dell'azione alla sua conclusione e chiuderla con superficialità, come ho visto ieri, vuol dire buttare all'aria anche il lavoro che hanno fatto i compagni alle tue spalle per portarti fino alla porta, fino al tiro in porta. Quindi caro Tati, bene, perché secondo me ieri si è stato il migliore della partita, a parte il gol e lo dicevo anche prima del gol del Tati, però c'è ragione il tecnico, devi essere più tosso, più cattivo, te devi divorare la palla, te devi divorare la porta, prova pure le giocate difficili perché tecnicamente sei un giocatore eccelso, caro Tati Casteccianos, eccelso. Sei un giocatore assolutamente a livello tecnico importante, detesta, le prendi tutte tu, sai controllare la palla, sai dettare l'ultimo passaggio, quindi va bene, va bene, va bene, però per favore, te come anche Lazzari che ieri è stato attratti per quanto mi riguarda, è imbarazzante, sotto questo punto di vista specifico dovete essere più cattivi ragazzi, cattiveria, mangiate questo pallone, mangiatevi questo pallone, buttate giusta, benedetta, porta. Io non so se anche voi avete avuto questa stessa impressione, sono contento che la mia impressione sia suffragata da chi di calcio rispetto al sottoscritto ci campa e ci capisce molto di più come il tecnico Baroni, ci vuole più cattiveria e basta con questo giochetto di evidenziare per strappare clic e letture o simpatie gli aspetti positivi all'interno di una partita che sì in generale è andata bene ma che al suo interno nasconde ancora tantissimi aspetti negativi a cominciare ad esegere proprio da questo aspetto qui, da quella cattiveria che questa squadra non ha, cattiveria nel tiro, in porta, nel cercare con feroce il gol, attenzione, ok? Ecco, pure voi fatemi un pochino sapere questa situazione se siete d'accordo o meno con questa mia chiave di lettura, io sto morendo dal caldo ragazzi, si muore, si muore dal caldo, vi mando un caro abbraccio, auguro a tutti voi una buona giornata e chiaramente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti, forza Lazio!